Cose buone, cose buone dal mondo, grazie a Dio, eccoci qua. Ci sono varie persone che vanno, vanno e vengono, persone che sono impegnate. Noi li ringraziamo tutti quanti, questi bravi amici che sono venuti a trovarci. Grazie a questi bravi amici. Dio vede, provvede, noi li ringraziamo. Persone che sono felici di partecipare. Ecco la signora Donascimento, bentornata, ha portato questo bravo ragazzo qua. Benvenuto, benvenuto. Abbiamo anche di là Raul Bova e Claudio. Benissimo. Grazie a Dio oggi è anche una bella giornata e le persone sono impegnate, fanno tante cose, vanno e vengono. Noi li ringraziamo tutti quanti. Abbiamo anche oggi delle cose abbondanti, grazie a Dio, ci sono cose buone come sempre. Ci sarà tra un po' la condivisione della parola. Odiamo quello che il signor preparerà. E poi ci sono anche, c'è la lista lavoro che è qua, che diciamo verrà data alle persone oggi il 31 marzo. E poi ci sono persone che continuamente entrano e escono, entrano e escono. Persone che sono in movimento. C'è un continuo via vai di gente che va e che viene. Persone curiose, persone che cercano lavoro. Persone che cercano anche di fare la volontà di Dio in qualche maniera ascoltando la sua parola. Quindi ringraziamo il Signore per la sua parola. E adesso proseguiamo con il cibo solido.